Ti ricordo che se non ti avessi usato la cortesia di intervenire a quest'ora saresti già morto, Radamante. Non essere in grado. Come? In ogni caso, ho già finito con Kanon. Ti ho detto che Kanon è un mio avversario! Ma che cosa? Che cosa è successo? Chi ha usato intromettersi? Rivelati subito! Ma... ma questo è... Sì, Radamante, è un cosmo. Ed è tanto potente da far vibrare gli inferi interi. Ma questo cosmo... Ho un brutto pressentimento. Avverto un'aura così intensa... Così diversa da quella degli altri cavalieri che hanno violato il regno. E soprattutto... Così tremendamente aggressiva. Che sia il cosmo che appartiene a quell'uomo. È il cosmo di Fenix. L'araba fenice.